Buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale. Questo sarà il mio primo video, un video what I eat in a day, quindi vi mostrerò cosa mangerò durante l'arco della giornata. Fra poco partirò per andare a Milano insieme ad una mia amica per allenarci insieme al nostro coach in un allenamento di powerlifting, vi lascerò degli spezzoni di questo durante il video. Quindi adesso vi lascio al resto del video. Simone, arriviamo precise, le due prezze arrivano a luna precise, cambiate, mangiate, pronti. Mangia, abbiamo la, come la chiami te, la schissetta, la schissetta, dille tre volte di fila veloce. Schissetta, schissetta, schissetta. Chissetta, schissetta. Chissetta, schissetta. Chissetta, schissetta. Chissetta, schissetta. Chissetta, schissetta. Grazie a tutti